Dalla Dacia Arena di Udine, benvenuti a Udinese Lazio, a caccia dei record, un soldo di ecco celeste da parte Luigi Sinibaldi, via, partiti per questo match. Adesso possibilità ancora una volta per l'Udinese, occhio, se che al tiro in porta lasagna, tiro però non particolarmente potente. Ancora per l'Udinese con lasagna, attenzione, se che al tiro in porta ha piazzato, proprio Striegel Larsen, sarà molto bravo Stracoscia nella barata. Intanto palla lunga dalle parti di Larsen, poi cerca il tiro in porta e il gol, l'Udinese, lasagna. L'Udinese subito in vantaggio al tredicesimo minuto di gioco. Vediamo un pochino a Luis Alberto, di testa, attenzione, Bissarri, la tiene improvvisamente. Aveva colpito, se non sbaglio, Luis Felipe o forse Basos, vediamo un po'. La feriettana di rigore, ottimo, Felipe Anderson in area, ancora Felipe, palla dentro, ripallo, Lulic, aggancia, cerca il tiro, immobile! 1-1, la Lazio ha rimesso a posto, Otto è infuriato contro l'assistente di linea, che non ha sbandierato poco fa. Il fallo a suo giudizio sul suo giocatore, immobile, va a mettere il pallone nel sacco. Luis Alberto, Felipe Anderson, attenzione che, ha detto un'altra delle sue, occhio immobile, è di rigore, Ciro! Danilo, anticipa anche Bissarri, calcio d'angolo, immobile, sta per trovare il secondo gol in partita. Lulic, Luis Alberto, sempre lui, attenzione al suo destro, ancora Luis Alberto, quindi Milinkovic va a prendere Samir, occhio immobile, attenzione immobile, l'area di rigore. Luis Alberto! Luis Albertone la mette dentro! Luis e la Lazio passa in vantaggio al 37esimo, con il gol numero 9 in campionato di Luis Alberto, che raggiunge Milinkovic. Lulic, finisce qui il primo tempo, Lazio in vantaggio per 2-1, poi per gran palla, per Patrick, la finta per Luis Alberto, attenzione! Luis Alberto! Condegazione probabilmente ha protestato, palla sul fondo. Pallone laterale per Patrick, che stava con il petto, arriva il cross, occhio, secondo palo, immobile, a rigore, immobile, immobile! Palla che finisce, addirittura in fallo laterale, ma l'idea non era per niente male di Ciro, che ha stoppato e ha calciato verso la porta. Murgia, spazio, Murgia, non lo prende nessuno, occhio a Sandro, può tentare il destro Sandro, non è una cattiva idea, ancora una volta, palla però fuori. Avanza, attenzione, appuntare a Liadnan, fa quello che vuole Felipe Anderson, suddiluce Noitink, ancora Felipe, dentro verso Ciro! Pissarri, una genialata di Felipetto! Murgia, per Marusic, sarà di rigore, Marusic, gran frenata! Marusic, Pissarri, in calcio d'angolo! Arriva il cross, attenzione delle... Mamma mia, mamma mia, l'avevo vista dentro! Decide di accelerare, ancora Felipe Anderson, dentro verso Patrick! Patrick, stop dello spagnolo, ancora Patrick, dentro verso Murgia, 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 Murgia! Sul fondo! Rocchi, guarda il cronometro, è finita! La Lazio ha vinto 2-1, va a spugnare la Dacia Arena di Udine! Réalic, non è finita! La Lazio ha vinto 2-1, va a spugnare la Dacia Arena di Udine! Grazie a tutti